Oggi, mercoledì 30 gennaio, presso il Presidio IRCA di Osimo, è stata inaugurata la ristrutturazione dell'area chirurgica, conosciuta come Terza Corsia, che verrà usata trasferendovi un'attività chirurgica ad egenza breve e o a bassa complessità, con modelli di risposta organizzativa ed assistenziale per la presa in carico e la gestione di pazienti di area chirurgica dimissibili in 12-24 ore. Questo nuovo modello logistico organizzativo permetterà una più immediata, efficace ed appropriate a gestione di questi pazienti, da parte dello specialista chirurgo e decongestionerà la situazione logistica del pronto soccorso. Anche in caso di strutture esistenti, che sono previste in termini di percorso, poi di confluire verso nuove strutture di realizzazione, non abbiamo mai smesso di fare i necessari investimenti. Investimenti in sanità significa sicurezza, significa qualità, non può essere, chiamiamo il pretesto che stiamo investendo altrove, poi con i tempi che spesso abbiamo nel seguire i cantieri perché così non si spendono soldi da altre parti. No, noi dobbiamo continuare a garantire questa qualità e devo dire ogni volta che restituiamo quello che viene investito alla nostra regione è sempre un motivo importante di apprezzamento perché poi l'investimento in sanità va verso i cittadini di bisogni più importanti, avere più spazi per un pronto soccorso o per attività chirurgiche o che permette a una struttura di lavorare meglio come accade qui ad Osimo è proprio un risultato che poi viene immediatamente apprezzato dagli operatori che sono essenziali dentro una struttura ma dai cittadini che rivolgendosi vedono un impegno costante, un interesse nei loro confronti e un alzamento della qualità dei servizi. Credo che siamo riusciti grazie al contributo soprattutto di tutti i professionisti, di questo ne siamo assolutamente lieti e a Osimo sono state anche attivate una serie di attività aggiuntive in particolare da un punto di vista ambulatoriale che stanno dando delle risposte alla comunità locale. E poi insomma siamo riusciti anche a lavorare su diverse situazioni che inevitabilmente negli ultimi anni erano, anche per questa storia del passaggio avveniva o non avveniva, insomma è stata una fase un po' complessa, per stabilizzare una serie di situazioni che oggi ci consentono anche di riavviare progetti più impegnativi, mi riferisco alla chirurgia, alla medicina, mi riferisco alla pneumologia, ci abbiamo da lavorare sul pronto soccorso che probabilmente è la situazione sulla quale ancora, ma per una situazione più generale a livello regionale e nazionale. Si inaugura il primo stralcio dell'ampliamento del pronto soccorso con 10 posti letto nuovi che potranno servire l'osservazione breve del pronto soccorso e soprattutto un grazie al lavoro di squadra che si è messo in campo tra ASUR prima, oggi IRCA e amministrazione comunale. Ci si è incontrati spesso, si è fatto il punto della situazione, poi i cittadini vogliono fatti concreti, l'inaugurazione di oggi è un fatto concreto, non ci fermiamo solo agli spazi ma anche la collaborazione importante è stata quella di vedere aumentato il numero del personale a servizio dei vari primari nuovi che sono stati inseriti nel contesto del Santipenù del Rocco di Osimo, a partire da medicina, a partire dal reparto di anestesia e rianimazione, al laboratorio di analisi e ai nuovi medici che arriveranno presto a pronto soccorso. Quindi via le polemiche, fatti concreti per la città di Osimo e per l'intera Valmusone.